Nel prossimo bando regionale per le dotazioni della polizia locale saranno stanziati dalla regione 2.300.000 euro per l'acquisto dei beni strumentali che faciliteranno il lavoro degli agenti sia dal punto di vista tecnologico che da quello dell'autotutela. Lo ha detto l'assessore alla sicurezza e migrazione polizia locale della regione Lombardia Riccardo Decorato, tra i beni strumentali gli agenti di polizia locale verranno dotati di droni di ultima generazione per la videosorveglianza, bici elettriche, strumentazione radio, giubbotti antitaglio, cuscini per TSO, taser, spray urticante, oltre a bodycam per gli agenti e dashcam per le autovetture. Inoltre, evidenziato l'assessore regionale alla sicurezza, anche per l'interconnessione delle sale operative delle forze dell'ordine e dei corpi della polizia locale saranno stanziati da regione Lombardia 3 milioni di euro.